Nelle ore del no, opposto dal Tarra alla richiesta dei ex vertici di Girgenti Acque di sospendere l'efficacia dell'interdittiva antimafia prefettizia, diventa rovente lo scontro tra i sindaci dei comuni cosiddetti ribelli e quelli che, al contrario, ritenendo all'epoca di dover aderire alla legge, nel caso di diversi comuni peraltro non c'erano alternative, visto che si era reduci dagli anni di gestione EAS, consegnarono impianti e depuratori al nuovo ente gestore privato delle risorse idriche pubbliche. A dare fuoco alle polveri è stato l'avvocato Dell'Aira, ossia uno dei commissari nominati dal prefetto di Egrigento Dario Caputo insieme all'ingegnere Gervasio Venuti. Durante l'ultima assemblea, Dell'Aira ha evidenziato che, sull'albase del percorso in atto che, dopo la risoluzione del contratto con Girgenti Acque, sta privilegiando il traguardo finale della gestione pubblica dell'acqua, in buona sostanza, al punto in cui siamo, anche i 16 comuni dissidenti dovrebbero mettersi in regola e fare quello che fecero le altre 27 municipalità agrigentine. Apre di cielo, i sindaci dei comuni in questione, infatti, non intendono fare un passo indietro. Si sono riuniti autonomamente a Cianciana, come una sorta di corrente di partito. Al termine della riunione hanno diramato una nota, in cui respingono l'epiteto di municipalità che dieci anni fa aggirono nell'illegalità, che continuano a vedersi affibbiato, ricordando che fu una legge regionale, approvata dall'Assemblea regionale siciliana del 2013, a dalle loro ragione. Nella discussione si è inserita anche una polemica diretta tra Franco Valenti e Carmelo Pace. E' successo dopo che il sindaco di Santa Margherita si è augurato pubblicamente che finalmente anche i cittadini dei comuni che consegnarono le reti idriche possano cominciare a pagare il giusto. Il primo cittadino di Ribera si è risentito, considerando questa affermazione come una sorta di scherno, definendola una battuta carnascialesca. Come voler dire tra le righe che chi rispettò la norma oggi si vede perfino additato da chi non lo fece, quasi come un idiota. Franco Valenti però oggi afferma che non era certamente questo il suo intento. Fatto sta che lo scontro è ormai a fulmico tone, i toni sono accesi e come se non bastasse, come torna a fare oggi il centrodestra di Sciacca, si inserirebbe anche la presunta bizzarra contrapposizione tra la presidente del Lati, Francesca Valenti, sindaco di Sciacca, e il fratello primo cittadino di Santa Margherita. Perché, come si sa, nella polemica politica alla fine ci finisce inevitabilmente di tutto. Grazie. 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 Grazie.